Salve ragazzi sono Castoro, io sono Procione e ritorniamo su Atras2. Allora nell'ultimo episodio siamo tornati a scuola tipo però siamo sulla neve e qui a sinistra c'è un merdone che ci ha stuprato e abbiamo staccato eccolo qua scappa dove dovrei scappare ma che cazzo è sopra o merda dici che mi incazzo e faccio le mi ha ucciso lo stesso o sbaglio? no ti ha ucciso lo stesso perché ti ha colpito però ti dovevi buttare giù so ciò come sta facendo dei sauriti se tu che sei in campo non sono mai in campo invece si ma è lui che apre la porta salve tutto qua vedi e ma puoi andare giù no ma qua di qua mi sei parentato si vediamo a dove devo andare oh qua? no no vico mi servono quei rossi non penso ma quei cosi cosa sono? hanno la lingua lunga eh e quindi se la buttano al culo qualcosa di lore hanno si però ecco ti arricisci però non si capisce cosa sono come non si capisce il perché vai in una scuola ogni tanto eh vabbè più in la forse più in la si capirà grazie una batteria no merda eh sbarrata non bloccata e quindi come cazzo ne so io si è mi fai tornare indietro porca puttana devo liberare quella porta qui oh c'è un'uscita no c'è x quel cazzo qua no ah ecco no oh si andiamo 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 a schermare salve buongiorno sono tipo nelle fogne di dark soon mai nella vita eri gelosa ed eri spaventata eh scappa so adesso schifo che mi segue scappa 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 vai via scappa 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 c'è una batteria qua te ne vai affanculo c'è un microonde fatti qualcosa c'è un microonde o meno il cibo eh dipende una penda infatti una penda al microonde eh ma va affanculo eh lui i forni che abbiamo al lavoro cosa salve io dove dovrei andare eh qua c'è la porta chi cazzo l'aveva visto qua non si vede un cazzo ma qua siamo di come si si dietro siamo sempre nella stessa parte da fi eh qua c'è un foglio per te ah è quello con lì beccato ok merda non sei solo oh merda chi animale è ciao bimba tua nonna troia chi sei cessica cessica porca puttana non ti vedo più dove sta andando veglia signore sulle tue pecorelle illumina la notte la tua magnificenza cerca rifugio nella tua fulgida presenza ricarica ma non devo dimmiere se tu sei vicino tu sei il salvatore la luce del mio cammino si vanno cazzo di andare amore ci siamo persi ma qua non si vede più niente eh con tutta la visione notturna c'è proprio da ritardati che è creato sto ciò ci facciamo una cosa che non si capisce un cazzo così si divertiranno di più i mongoloidi ma che c'è una luce che devo seguire nooo secondo me devi andare perchè stai girando in un cerchio è un cerchio con tutti i muri attorno devi seguire la voce di questa bene è saltato il castoro sei imbiccata uff perchè? eh perchè è imbiccata allora secondo me abusavano di lei che sei imbiccata ok no perchè era tua moglie sei arrivato fino a qui con lei adesso che avevo un cazzo ok siamo tornati nel mondo dove eravamo prima proprio eh merda addio eh non c'è la pila un lago 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 dove è lago? boh quello? no ma non dovevamo andare nella miniera è stato dall'altra parte del lago ti ha detto cosa succede? come il resident evil 4 che esce un coso gigante dal lago col cazzo che metto piede in acqua c'è qualcosa di strano il lago è strano se hai visto c'è uno che è andato sott'acqua non l'ho visto c'era un tizio che si è lanciato sott'acqua c'è continuava a camminare ad un certo punto è scomparso sott'acqua ok quindi non c'entrò mai oh c'è qualcosa tipo un cazzo ecco tipo un cazzo giusto a chiave c'è gente morta casa chiusa qua? oh finalmente sa qualcosa almeno? un cazzo un cazzo oh di qua si va in qua si apre donna ricarichiamo di nuovo non so qua si scarica ogni 20 secondi ma che cazzo di batteri usi porca puttana manca manco le batterie 10 che si da un euro durano così poco un euro un pacco da 100 eh appunto ah ecco il che sarebbe visto l'utilità di questa cosa? non lo so e non la voglio sapere va bene perché mi fai entrare qua dentro se poi non c'è niente porca che cazzo sei tu? che cazzo sei tu? e sempre i bidoni ok ti serve secondo me tipo una barca eh lo cazzo la prendi eccola eh è sicuro che galleggia quella cosa che cazzo sei tu? lascia che ti aiuti chi cazzo è? non voglio s'aiuto sono detto signore sta succedendo qualcosa perché è in modo strano non me ne hai accorto te l'ho preso te l'ho detto o c'è la gente sotto acqua? sono morto non devo andare nell'acqua quindi saltiamo da quest'altra parte se magari mi fai saltare e vado di qua vedi qua non ci sono mai andato ecco ok era tutto così semplice e chiaro solo che progione è un coglione ah certo mi sono dimenticato e non se ne è accorto ok da qui pure di qua è brutto so lì sopra là che c'è qualcosa di no a parte che qua c'è il vuoto qui c'è un morto vabbè devo andare a forza di là ahhh cosa sei tu? cazzo che dove si rompe tutto? che cazzo è? qualunque cosa sia successo me la sono persa eh sicuro ma chissà sono pesci che cazzo sono questi cosi? pesci perchè devo filmare pesci? boh perchè sono tipo putrefatti a dir poco? non è vero sembrano pesci buoni ehh fammi vedere lo spizio devo vedere questo filmato ciao una torre una torre di raspensione ah stai filmando la torre dietro ah ok vabbè vaffanculo eccola vabbè vabbè che io filmavo i pesci vabbè che cos'è sta roba roba tuffati tuffati salto della fede si assassin creed ehh proprio lui secondo me ci dobbiamo buttare da lì secondo me ci schiatti e per forza vedi non possiamo andare da nessuna altra volta salto della fede vai senza videocamera io sono Ezio Greggio cosa? aia sono morto sbaglio abbastanza è convinto proprio che doveva andare lì ah metti contemporane forse e quindi che si fa? io sono convinto che devi andare qua di nuovo ci sei appena morto che cazzo deve andare allora? che cazzo che so cerca 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 il cuore d'oro magari cerca senza essere gay cerca cerca il pisello d'oro perfetto da qui? no qua vedi qua vedi qua è dietro mi sa no no si è dietro no invece possiamo mai stare ok è dietro un animale brutto che cosa? che cazzo sono sti urla? che cazzo sono sti urla? che cazzo sono sti urla? dai almeno una pila me la devi dare porca puttana non la dimentiti un remo una zattera cosa cazzo ho detto? che cazzo sono morto vai cosa? cosa sto vedendo con i miei occhi? è un pezzo un fottuto pezzo di gay te l'ho detto che qua diventa Resident Evil 4 e vai sulla barca e poi ti esce il coso gigante da sotto che ti mangia dove devo andare? devi arrivare dove stava la tour penso no dirà non gira più sì ma ci metteremo 10 anni come minimo non penso mai che ci arriveremo vabbè sicuramente succede qualcosa prima però ci metteremo 10 anni se magari con voi è storto merda si sta appannando tutto ecco le cose smetterò male la musica sta cambiando che cazzo era? la smetti? lo senti? si lo schifo oh cazzo lo senti lo schifo te l'ho detto che ti esce qualcosa da sotto come in Resident Evil 4 oh merda oh merda rema più forte rema più forte non rema un cazzo sto coso io l'avevo detto Dio aiuto c'è il Gesù di nuovo ah ma forse è quel coso che ti ha salvato fino ad ora che cazzo hai i pesci morti? come gli uccelli prima come gli uccelli prima eh sono segni l'apocalisse spamma x per tornare sulla cosa prima che ti mangi il mostro eh stiamo facendo la stessa cosa eh appunto aiuto 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 aiutai vai 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 sempre vai sempre non è capace di rilevare questo come ti ci siamo ci siamo sei arrivato vai oh merda questo è un fuscello o sbaglio? ehm stiamo tipo nelle rapide se magari vai nella giusta direzione siamo all'incontrario non si capisce un cazzo che cazzo è sto coso? c'è la vera e mezzo ma che sfaccimma? si è baccata la barca ok vai 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 sta facendo tutto da solo vai che cazzo ti remi? guarda guarda che cazzo sono qui? aia aia tua nonna mando cazzo si sta parte è bruttissima e lentissima come si scende da sta zatte? me la faccio a piedi eeeh iuuu brang dai la nonna ok dobbiamo scendere come barca non vale un cazzo ma dai è una porta cosa sta facendo? sta cercando di scagliarlo cioè di di sbloccarla picchiando il masso ecco perserremo o sbaglio? no no sono loro che hanno preso Ling ci sono quasi sto per arrivare Ling la setta la vuole morta da buoni cristiani perché Dio dice che deve morire ma gli altri gli eretici vogliono che dia alla luce il bambino per contrariare Dio cosa faranno quando si accorgeranno che non c'è nessun bambino? devo? Cristo Ling sto arrivando ok civiltà ma quella è di nuovo lui no lì è morto però è una persona con una torcia oh prova smarti addosso eh si vedi se eh sbaglio tre persone sono anche nudi che cazzo esserò animali questo oh sono cadaveri mi sa e la madre li stavi filmando si è tolta la videocamera e tu che sei campo ecco qua un obiettivo che non riesco a leggere perché è piccolissimo in 4k non si vede ah sono cadaveri la barca più dentro del mondo ma mi sa che stai andando tipo contro mano no 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 si vede un cazzo senza videocamera si vede match madonna sono dieci ore che siamo su questa barra un ramo un ramo l'abbiamo preso l'abbiamo preso sono morto non penso ma mi sa che era scriptato forse che cazzo sono non si vede niente non lo so la zattera fa che sia ancora lì ah devi tornare alla zattera mi sa come? non lo so oh merda no comunque era scriptato sicuro la zattera non c'è cazzo sta la zattera caricamo cazzo il rumore è c'è qualcosa di brutto c'è qualcosa di brutto qua su questo c'è qualcosa di brutto mi sentivo più assicuro sulla zattera eccola la zattera se riuscissi ad aggiungere l'altra sponda ah qui a destra vedi? eh io non la vedo è stanzata la ce l'hai inquadrata è così grande che cazzo è qualcosa? ah volevo vederlo col cazzo pesci umani non lanciamoli il pesce è il condimento insalata di umo di pesce che faccio ad andare lì la? oh butta giù un albero tipo questo? no c'è che era uno proprio sul questo? vedi? Zelda impara love che cazzo sta scritto là? love love ah ma perché sei ritardato e non sai camminare dritto? è volevo leggere ok love set us free amore e rendici libero va bene c'è un impiccato super audio da uccisione ok ok mi ero subito sulla barca che cazzo è sembra una canzone indiana su serio il remo è rimasto attaccato lì alla barca ok oh merda è saltato qualcosa o sbaglio? era un uccello penso non penso proprio un cazzo lo salti quel coso ecco si è saltato qualcosa vedi come sa sei saltando due qualcosi vedo come sa che cazzo è non so se qualcosa ti ha buttato giù oh merda scappa tua nonna dove scappa dove voglio sapere dove non si vede un cazzo non lo so vaffa il culo mamma mia gli occhi la nonna non si vede nulla se il gioco è impossibile scappa 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 la tua nonna ma che cazzo i rumori fanno sti cosi cappacastoro raggiungo i coglioni che cazzo è la lingua di tua monna ma mi porto il rumore a scuola sicuro che cazzo sei ma che cazzo succede così vedere si capisce un cazzo tu mi devi dire no io forse devo fare ecco non lo so casa devi essere stuprato che quanti cazzo di mani cazzo è nico robin in realtà quando il microfono lo spezzo a terra ci cago super perché ci cago super a faccia qualcosa corri che so che prendo ma non so dove devo andare mi sa che so cosa è infinito aiuto no salta salta do cazzo sei ah ok fuori dalla piscina era scuola alla fine eh si era la scuola perché c'era quel coso aspetta eh aspetta eh ma fa che tutto fin da in realtà noi siamo un fottuto ragazzino e siamo nella scuola no chi te l'ha detto ma fa che in realtà si è solo fatto di lsd il protagonista non penso secondo me l'opzione è più probabile nel cesso delle donne vai vai a fare il guardone c'è la luce ok qualche ragazza c'aveva il ciclo c'è qualcuno che bussa non si è accorto ma ti sto filmando perché bussi non aprire quella porta ok il motivo di questa cosa ha fatto cacca dalle morroia va bene qualcuno sta arrivando chi? tua nonna eh calmi ma che c'è il cesso dei maschi a caso se c'è vuol dire che funziona exit la nonna ah non la voglio dire che cazzo c'è siamo su qualcosa bloccata siamo su qualcosa sarà la blondine che scappa è sempre possiamo che cazzo succede da lì non devo andare sicuro eh no scappa sempre scappa sempre scappa sempre scappa sempre mancola mamita mancola mamita cosa? che cazzo succede? dove cazzo sono? ma perché la camera fa cosa? ahhh sto impazzendo tu ecco grazie oh è visibile grazie ok ha detto vai di qua che ti stupi ma come la schifo sta cosa? sto partendo all'uso della vista che cazzo è? ah è vero che cosa è qua? e chi mi ha fatto andare qua? eh per la batteria penso mi ha fatto un favore ha detto vai non solo lo stiamo stuprando facciamo almeno per avere meno gradi possibili nella vista è chiaro bello aiutami Blake Blake ma che cazzo succede stammi lontano ma chi? eeeh lascia vissare lascia vissare ti prego posso stare a scala? non si vede un cazzo qua ok ma ritorniamo nella realtà sicuramente si perché la scala è diventata di legno è infatti apri salve papa non c'è papa buongiorno ok direi di staccare qua bene ragazzi anche per questa puntata è tutto e ci vediamo al prossimo episodio ciao